Ciao, presentati! Ciao, mi chiamo Steph e vengo da Cagliari! Con cosa ti presenti qui oggi? Voglio cantare! Prego, inizi! La la la! La la la! Eh, ma lei fa schifo! Ti fermi! Devi dare via! La la la! Eh, guardia! La 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 la! E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki! Sì, sono Steph! E che si chiama Roblox! E oggi siamo nella mappa... Scusami, scusami! Preperita di Steph! Perché oggi giocheremo a Roblox Got Talent! In cui Steph finalmente potrà sfuggiare le sue abilità carore o tutto quello che vuoi! Ok! E poter essere addirittura giudicato! Così vedremo se ho ragione io a dire che fai schifo! Sì! O se hanno ragione i consolini a dire che dovresti fare Sanremo! Staremo a vedere! Mi sembra un giusto tentativo! Non sappiamo se è un tre mappe in uno! Non sappiamo cosa sarà questo video! Per ora partiamo a questa mappa! Ragazzi, è davvero bellina! L'abbiamo provata un pochitino! Praticamente, noi davvero dobbiamo andare nei camerini, prepararci e fare l'audizione! Ci saranno i giudici che ci valuteranno e decideranno se appunto abbiamo un vero talento o meno! Partiamo subito! Sì! Dove sei? Dove sei andata? Eh, ho sbagliato stanza! Sono andata nelle audizioni! Devi cliccare in basso a sinistra su audience! Audience! Ma a me l'unica cosa che piace di questa mappa è vestirmi! Quindi come mi concio? Vediamo un po' cosa voglio mettermi! Io prima vado a prendermi il bigliettino per fare l'audizione! Capito? Perché ti devi mettere in fila! Dopodiché mi vesto! Così diciamo non perdo tempo! Buongiorno, buongiorno! Datemi il numero! Sono il numero 29 e tocca al 24! Perfetto! Grazie mille! Ok! Io sono il 30 quindi subito dopo di te ci sarà da ridere! Sarà uno dopo l'altro! Ci sarà da ridere! Esatto! Esatto! Allora devo trovare come vestirmi oggi! Allora che voglio? Si sposti che se no prendo parrucche per sbaglio! Io voglio questa pettinatura qua! Mi sembra molto bella! Sì guarda come mi sta bene! Eh vabbè ma sei un panchettone oggi! Grazie! È un complimento! Io voglio i capelli celesti! Giusto per cambiare che ce li stupi rosa! Poi una faccia questa qua con la barba mi piace! No! Non mi piace più! Cos'hai combinato? Eh guarda! Cos'hai diventato? È un problema! Oh mamma mia fai paura! Lo so! Ma sei bruttissimo! Grazie! Cioè almeno conciuti con qualcosa di meglio! Voglio questi occhiali! Mentre Ferenicil decide che tanto sappiamo quante ore ci mette! Il mantello da Superman! Silenzio! Queste sono tutte le cose che si possono fare! Quindi tutti i talenti che possiamo soggiare nel palco di Roblox Got Talent! Allora fammi scegliere! Perché sai com'è? Io sono un'artista talmente completa che non ho ancora capito quale sarà il mio talento! Sai! Allora... Difficile eh! Vediamo! Difficile! Difficile! Parcour! No! Parcour faccio schifo! Parcour no! E allora a me intriga un po' il pianoforte perché mentre suono potrei anche cantare! Altrimenti però non so se sono bravo col pianoforte capito? Quindi un po' mi preoccupa! Io voglio fare painting! Voglio dipingere! Oggi mi sento pittrice! Ok! Ok! Quindi tu dipingi? Sì! Sì! Perfetto! Io allora voglio provare! È difficile! Ce ne sono troppi interessanti! Come si fa a scegliere una roba del genere? E se provo tipo Sword Fight The Host? Che sarebbe combattere quindi il capo del server? Uh sì! No 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 no! Mi sa che tocca a me! A me si è tolto il numerezzo lo sai? Perché ho sbagliato stanze e mi ha tolto tutto! Vabbè dai facciamo che vedo la tua poi penserò alla mia! Ma non ho scelto! Come non hai scelto? Vabbè 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 e non so cosa fare! Buongiorno! Non volevi fare quello particolare? Hello! Eh sì ma non mi ricordo più che cos'era! Ok! Ok mi hanno dato una spada! Ok! Devi picchiare Lost! Sì! No ma lo voglio fare anch'io questo! Devo stare attento! Allora! È una sfida a spada contro spada! Non ne sono felice perché può vincere chiunque in queste cose! Devo fare un po' di finte! Uh! No mi ha già colpito! Sono in svantaggio! Sono in svantaggio! Yes! Bravo! Bravissimo! Ce l'hai fatto! Che bella esibizia! Ma perché le X? Perché scusate! Fate schifo come giudice ha vinto! È morto l'altro! Ho vinto! L'ho ucciso! Cosa stanno mettendo? Sono un po' confusi io te lo dico! Cosa mi stanno mettendo? Non lo so! C'è vogliono che provo cose! Esatto! Secondo me ha fatto arrabbiare Lost perché l'ho ucciso! Sono diventato un giudice! Ho visto! Dopo aver vinto praticamente i consolini! Lì ne hanno visto fino al delirio! Da quel delirio parlando con la mia arguta lingua sono riuscito a farmi aprire la porta dei vincitori a caso! Ho fatto abbastanza punti per diventare un giudice! In sostanza! Ed eccomi qui! Ha barato per diventare un vincitore! Io ci terrei a dire questa cosa! Guardami! Come sempre bara e quindi non è una buona cosa! Ma quando mai! Allora abbiamo Kayakollins4, il nome più su nel mondo, che credo che stia cercando di disegnare un fiore! Ma volevo disegnare io però! Non è male! Secondo me è difficilissimo disegnare, te lo dico! Però non mi piace neanche così tanto! Bravissima! Brava! Andatene dai! Ora vai via! Che tra due tocca a me! Dai che vogliamo fare i nichi! No non devi tornare al microfono e dire grazie! Vai vai! Vai alla porta! Ciao! E non tornare mai più possibilmente! Ok è andata via! Non so cosa fare! Che mi consigli? Allora next one! Vai il prossimo! Forza! A chi tocca? Spero non tocchi a te perché se non sai di cosa fare! Io sono 59 adesso c'è... Ah no ecco a me! Tocca a te! Come ti sei vestita? Da supereroe! È angelo boh! Sei un Thor tipo! Ho improvvisato! Aiutami che faccio? Allora! Secondo me ok! Ok è abbastanza semplice! Sì ti ci vedo! Ma non è semplice secondo me! Ok! Ok vai! Ma poi tutti fanno sempre le stesse quindi io non li conosco! Io cerco di farti vincere! Io cerco di farti vincere! Adesso sicuro che spona qualcosa di strenissimo! C'è un campo da ok! Tu devi prendere la mazza lì! La vedi? Lì in fondo appoggiata la mazza! Ok grazie perché mi stai spiegando! Vai a prenderla! E poi cerchi di colpire credo la pallina facendo gol! Oddio! Ok! Ma si sci... Allora si scivara tantissima! E beh c'è il ghiaccio cara mia! Eh sono bravissima! Sono andata per farlo! Sfidami Ost! Dai sfidiamoci! Vai ti ho fatte le stelline gialle! Vieni! È uno spettacolo bellissimo! Mi sto emozionando le lacrime e gli occhi! Vero! Cioè poi soprattutto con le mie capriole è stato fant... Sì! Ost fai qualcosa! Il giudice sta cercando di andarsene! Sta cercando... Allora perché nessuno apprezza la mia arte che qua io sto giocando a do... Bello il tiro! Vado! Vado! Cerca di segnare l'altra porta! Vado! Spim! Dove l'ho tirata? No tu non hai capito che la pallina lagga tu la vedi poi non la vedi poi la rivedi? Win! Teoricamente sono il capo! Sono rimasto l'unico giudice! L'host mi dovrebbe approvare! Ost dai approvami! Dai Ost muoviti! Approve her! Io e me attento! Ti ho fatto anche giocare con me! Cioè apprezza! Che io le avevo prese tutte e due le mazze e una glielo ho dato! Sì! No sei stata molto gentile! Hai convolto le persone al tuo spettacolo! Eh sì ho fatto capriole! Diciamo che lui è voluto come hockey! Non ho fatto l'hockey classico! Dai Ost! Ed è andato FK e se n'è andata! Ma è una gioia per fare i nicchi! Cioè anche quando vinco devo avere tristezze! Io sto cercando di aprirti la porta! Ma non ho abbastanza potere! Eh no lo deve approvare quell'accidente di Ost che se n'è andato! Che se n'è andato! Ragazzi! Come facciamo? Cioè davvero! Winni da Ost! Eh ma c'è gente con 190 punti! Visto che qua nessuno riconosce la mia potenza e la mia bravura ce ne andiamo! Cambiamo mappa! Sicura? Sì! Volevo fare il giudice ma cioè mi avete fatto arrabbiare! Guarda ti sto dando le X! No me ne vado! Mi siedo in tutte le sedie! Soprattutto perché poi sto accidenti di Ost non si presenta! Quindi per stare qui ad aspettare non darmi neanche la vittoria che merito! Appena è chiusa la mappa è entrata l'Host! Non mi interessa! Ma è andata la stessa! Vai andiamo in altra mappa! Tanto poi i panni dispettosi non ti fanno passare lo stesso! Altra mappa! Altra mappa! I consolini ispirati dalle mappe brutte che abbiamo proposto negli ultimi tre mappe in uno ci hanno consigliato questa mappa! Perlomeno hanno scritto fate toilet simulator! Ce ne sono parecchi! Toilet simulator! Però secondo me è questo! Ok! Allora siamo in un water! C'è un tipo che ci sta spiando! Ci sono le luci che non funzionano! Non so cosa dobbiamo fare! Allora proviamo a muoverci un po'! Ma si muove strano il personaggio vero? Che cos'è questa mappa? Vieni 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 qua! Vieni a guardare questo bel lavandino! C'è una figura molto strana! Un'entità particolare! Ma dovrebbe essere una mappa horror che non fa paura? O una mappa horror che prima o poi fa paura! No! Cosa è successo? Dove sono... Mi vedi? Cosa stiamo giocando esattamente? È fuori dalla mia comprensione ti giuro non riesco a trovargli un senso! Siamo lenti! Siamo solo in questo... Qua c'è qualcosa sul muro però una crepa! Aspetta! Che hai trovato? È tipo una stanzino con un ragno! Oddio! Ma che brutto! E qua possiamo saltare e buttarci giù? No! Ok torniamo indietro! Ma per che cosa c'entra il bagno con una roba del genere? Io vorrei capire... V riesci a passare? No! Aspetta! Spostati! Ci provo io! Vai! Ok! Devi tenere premuto W! Eh no! Non mi faceva andare! Uè! Che paura! Entra! Uè! Mamma mia! Non ce la faccio più! Sto tremando! È finita! Mi sento male dalla paura! È finita! Non c'è altro! Io sto andando dal guardone del bagno! Ok! Ti sembra una cosa normale da fare? Spiare uno che va in bagno non è una bella cosa! Ti faccio la pupù in faccia così la smetti di spiare! Ok? Allora! Piace! Bella mappa! Ne abbiamo un altro di Toilet Simulator! Cos'è? Quindi potrebbe essere un quattro mappi in uno perché poi magari ne facciamo anche un'altra perché se è brutta quanto questa... Allora! L'abbiamo giocata! L'abbiamo finita! Usciamo! Usciamo! Andiamo! 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 Ed eccone un'altra! Allora! Questa cosa... Oggi ti piacciono i bagni? Non mi sembra! Sai che questa... Non mi sembra una cosa buona! Vieni qua! Vieni qua! Dimmi! Leggi! 10 ore di gioco! Eh sì! Ok! No ma... Senza stare alle 10 ore di gioco stando in un bagno! Ok! Non sembra Shower Simulator! È lo stesso creatore! Ma lo sento! Secondo me è lo stesso creatore! Anche perché poi dice hai il mio rispetto se giochi così tanto e ci credo! Ma che rispetto! Ma guarda! Tu hai il mio rispetto perché ho avuto sta schifezza di mappa! Ok! Ok! Guardami! Uh-huh! Siamo in bagno! Hai il giornale! Puoi guardare il giornale almeno! Ah! Ok! Ah! Interessante! Che è successo oggi! Allora! Talamon released the new future of Roblox! Quindi sì! What did you say? Gears! Sì! Candidates! Non leggo più altro! Ok! Bello sì! Ok! Molto interessante! Molto interessante! Mi ha emozionato tantissimo! Allora possiamo uscire dal nostro bellissimo bagno! E non c'è altro? Eh! Aspetta! Sono entrato in un altro per sbaglio! Allora! I bagni? No! Questo si aspettava pure che la mappa sarebbe stata giocata a tanta gente! Perché guarda quanti bagni ha messo! Come se ci fossero tanti players e invece siamo soli! Solissimi! Guarda! C'è pure il lavandino rotto! Ma che schifo! Ma pulite! Aspetta! Aspetta! Pulisco io! Guarda! Giornale! Bravo! Esatto! Attacca li anche nei vetri così sembrano giusti! Meno male che c'è Steph! Ok! Allora andiamo a vedere se c'è altro! Qua c'è la... Cos'è la classifica? Uno! Il massimo che durata... E' 40! Comunque un'ora... Devi stare un'ora in gioco per avere un water che ti brucia il sedere! Perché di fatto c'è il fuoco! Vabbè! Sai com'è quando un po' di bruciore di stomaco almeno ti aiuta! Dici? Sì! E ci sono anche le docce! Le ripropone pure nei bagni! Per farsi pubblicità all'altra mappa! Addirittura il Game Pass! Cioè sei un tirchio! Sì! Sì! Guarda! Se mai vedrai questo video sappi che sei un tirchio! Perché non si fanno ste cose! Allora... Non è che mi metti un bagno che fa schifo e gli altri che devo rimanere 14.000 ore di gioco per poterci entrare! Cioè ma davvero! Cioè per intenderci siamo a due! Cioè ma in 10 ore di gioco io mi finisco la maggior parte dei giochi esistenti! Qui dovrei stare ferma! Seduta in un bagno a leggere un giornale che neanche si capisce! A leggere un giornale che neanche si capisce! Esatto! Sei un tirchio! Ci fermiamo così! Speriamo che il video vi sia piaciuto! Nei commenti consigliate altre mappe terribili da provare! Così ci divertiremo a vedere davvero delle mappe brutte brutte brutte! E niente! Ci fermiamo! Beh ragazzi se vi piace così sentiteci un like! E se è la prima volta che vi ho avuto il nostro video potete considerare il video e iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao e alla prossima! Ciao ciao!